Buon pomeriggio allora oggi è arrivato un altro pacchetto un altro ordine che hanno ordinato le mie clienti e vi voglio far vedere i prodotti che hanno preso allora come primo prodotto c'è questo shampoo purificante di Libre Rocher e sono 300 ml di prodotto e questo qua serve proprio per purificare i capelli parliamo comunque di prodotti senza silicone e molto delicati quindi non sono dei prodotti che vanno all'ortica all'ortica però non sono dei prodotti aggressivi perché sono molto naturali quindi questo qua è lo shampoo purificante eccolo qua ragazzi poi c'è quest'altro shampoo che è uno shampoo delicato alla Monelis questo è uno shampoo che va bene per tutta la famiglia perché è molto delicato la Monelis sappiamo è una pianta molto delicata che anche essa purifica però è delicata e sono 300 ml di prodotto ed ha una bella azione purificante ed è indicata anche per è purificante però è anche delicato ed è molto è utile per tutti i tipi di capelli questo qua la Monelis quindi consigliatissimo anche questo quindi questi qua erano i shampoo poi mi hanno ordinato anche l'acqua micellare anzi no questa qua non me l'hanno ordinata l'ho presa io per me l'altra volta me l'ho ordinata questa volta no l'ho presa per me l'acqua micellare due in uno per pelli delicate e questo è molto idratante però è molto calmante e le native per pelli proprio sensibili quindi questa è l'acqua micellare due in uno poi mi hanno ordinato il deodorante fresco al tè della Cina questa è la nuova profumazione i nuovi deodoranti che hanno fatto e sono molto buoni sono senza sali di alluminio e questo è proprio bello al tè verde poi sempre per me ho preso i dischetti le livre rocher poi le compresse queste qua alle vitamine e ai 5 minerali che sono degli integratori molto utili poi il fondotinta che era il 0 del full 14 ore il batch 200 se non mi sbaglio pure mi è stato ordinato sì il batch 200 che era in promozione a 9,95 nel catalogo nell'album 6 e ovviamente adesso ne approfittano poi il matitone glossy questo qua che è il perfect rose glare eccolo qua molto delicato questo tra l'altro poi i rossecchi questi erano questo è un rossetto dell'edizione limitata sarebbe il il scusate se non leggo il brillance vegetal eccolo qua poi un altro smalto che è questo qua sempre dell'edizione limitata il pack exotic altro smalto effetto gel questo il bordeaux ex quiz non so se si vedono bene i valori poi un altro tossetto che è quello lam della linea idratante il non mi ricordo e non riesco a leggere il beige a gingembre eccolo qua comunque il colore più meno non ve li posso aprire perché non sono tutti i miei e poi l'elisir per le unghie questo qua è per me lo voglio provare non vedo l'ora di provarlo molto 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 bello non vedo l'ora poi c'è anche il profumo che già ho dato purtroppo e poi questo che è il gommaggio con lo salarbe cocca per il viso quindi i prodotti sono finiti e poi vi voglio far vedere l'album 7 che è l'album nuovo di questo mese che arriva fino al 7 giugno e c'è la nuova linea la les plaisir nature di tutti bagnoschiumi creme corpo al lampone menta piperita ci sia la crema corpo il bagnoschiuma il bagno doccia sono tutti e due in entrambi formati sia il bagno doccia formato grande formato un po' più piccolo sia il latte corpo formato grande e formato un po' più piccolo e poi c'è il gel esfoliante che è molto delicato comunque non è qualcosa di uguale per questa linea che mi piace tantissimo che è quella al mango e al coriandolo poi c'è la linea mandarino limone e cedro invece ci sono abbiamo il profumo l'odo toilette sia la versione grande che la versione piccola questo è il mandarino e cedro sia lo scrabbo corpo che la crema corpo abbiamo e poi c'è la linea questa qua i fiori d'arancia e l'amanda eccola qua stessa cosa quindi abbiamo l'odo toilette grande e piccolo più lo scrabbo corpo e crema corpo non crema corpo scusate bassamo corpo così poi per la linea la lavanda invece abbiamo il bagno doccia abbiamo il bagno doccia grande e piccolo il latte corpo grande e piccolo e poi qui la pastille effervescente quella che si mette quando si fa il bagno e l'olio sotto la doccia che secondo me è fenomenale così uguale per la linea alla vaniglia alla vaniglia bourbon poi abbiamo invece per della linea vaniglia e cocco abbiamo la stessa cosa quindi l'odo toilette grande e piccolo balsamo corpo e scrabbo corpo sia bourbon sia bourbon sia corpo stessa cosa e così anche al cocco abbiamo il bagno doccia grande e piccolo il latte corpo grande e piccolo più l'olio sotto la doccia e così finisce questa linea insomma era giusto per farvi vedere questa novità e le novità del va bene poi al centro dell'album troviamo la linea anti la ric crema e l'anti age global e quindi stanno in promozione un po' di cose c'è il fluido antiruga 1495 ci sono parecchie cose insomma in promozione giusto per farvi vedere non è che vi posso far vedere tutto l'album qua online e comunque questo era l'ultimo ordine che hanno ordinato i miei clienti vi mando un bacio grande e ciao al prossimo video ciao